L'amministratore delegato e direttore generale del Catania Sergio Gasparin, al quale chiediamo subito, dopo la breve rifinitura di stamani, come ha visto la squadra. Sembra che ci siano le motivazioni e come si suol dire il clima giusto. Siamo tutti consapevoli di incontrare una squadra che in questo momento verrà trascinata sull'onda di un grande entusiasmo che si respira nella capitale da oltre 50.000 presenti. Però andiamo in campo con 11 ragazzi e tutti gli altri che siederanno in panchina, in ossequio anche a quelle che sono le nuove norme che consentono una cosiddetta panchina lunga con la consapevolezza che abbiamo le possibilità di giocarcela contro una grande squadra. Noi non abbiamo le potenzialità dell'11 giallorosso di Zema, ma siamo grandi dentro. Oggi vogliamo, su piano di gioco, dimostrare, sul piano della volontà, della determinazione e dell'entusiasmo che si porrà all'interno del Rattangolo Verde, che il nostro cuore, il nostro modo di essere, la nostra voglia di essere squadra sia forte al cospetto di una compagine grandissima che parte con obiettivi di traguardi tricolori. Tra l'altro Zeman ha anche legittimato, come dire, la qualità del Catania, esprimendosi in termini lusinghieri a proposito della formazione rossa-azzurra, partendo ovviamente dalla base dello scorso campionato. Lei ha citato una novità importante di quest'anno, cioè quella della panchina lunga che ha fatto felice Mr. Maran e un po' tutti i tecnici della massima serie. Ce n'è un'altra che già da ieri, dai primi due anticipi, si è dimostrata importante. Arbitri addizionali, giudici di porta. Cosa ne pensa? Questo è un argomento sul quale io mi soffermo spesso con una valutazione che magari è molto diversa rispetto a tanti colleghi o ai singoli presidenti che rappresentano le varie società del campionato di Serie A. Io credo che il calcio debba mantenere una componente prevalentemente e prettamente umana. e quindi ogni qualvolta aggiungiamo un aspetto legato comunque all'uomo mi trova consenziente. Così come l'aspetto tecnologico rischia di far divenire il calcio un'altra cosa, un altro sport, un altro modo di essere. Quindi ben vengano i giudici di porta che rappresentano quindi una struttura ulteriormente perfezionata ma sempre affidata agli uomini. Siamo in un luogo che in qualche modo è sacro perché è il luogo in cui Mister Maran con ogni probabilità comunicherà la formazione iniziale ai suoi ragazzi e il luogo che ospiterà la riunione tecnica del Catania. Dal punto di vista emotivo l'approccio della squadra qual è? Lei ha detto giustamente di questa sacralità del luogo dello spogliatoio. E' lì dove si combinano tanti fattori, dove si creano sante alleanze, dove si cementano spiriti di gruppo e determinazione complessiva, dove si coniano i risultati. Quindi questa è un appendice di quello spogliatoio, nel senso che la saletta dove dal punto di vista tecnico-tattico l'allenatore con i suoi uomini prepara la partita, si confronta con i ragazzi, cerca di preparare nel sin, in ogni minimo dettaglio, quelli che sono gli aspetti su cui si può snodare la partita. Quindi effettivamente è una zona assolutamente delicata, ma contemporaneamente nella quale si fondano e si cementano quegli spiriti, quel modo di essere che poi mi auguro ci consentano di andare in campo e in partita nel modo giusto, con il carattere giusto, con la mentalità giusta e con la concentrazione necessaria, perché la gara di oggi è sicuramente molto molto difficile. Il Catania non ha mai espugnato l'Olimpico in versione giallorossa in Serie A. Sergio Gasparin cosa darebbe per arrivare a questo straordinario successo? Ma allora darebbe molto, ma da questo punto di vista io mi aspetto una grande prova di carattere da parte dei ragazzi, poi il risultato è frutto di tutto un insieme di combinazioni e situazioni, ma oggi, io credo che al di là di quello che sarà il risultato finale, è importantissimo l'approccio della squadra a una partita così difficile, così attesa per certi aspetti, non tanto e non solo dagli oltre 50.000 che saranno all'Olimpico, ma da tutti noi stessi, perché è l'avvio del campionato, è l'inizio di una nuova stagione agonistica, con le sue gioie, le sue sofferenze, i suoi momenti di grande emozione e quindi il risultato di questa sera è che io mi aspetto a vedere l'atteggiamento giusto da parte della nostra squadra. Giornalisticamente sfruttiamo la sua scarsa propensione alla scaramanzia, che è un po' una caratteristica inusuale nel mondo del calcio, per chiederle se c'è un giocatore che le ispira particolarmente fiducia, nulla togliendo agli altri, in queste ore a ridosso della partita. Io amo molto il giocatore per i giocatori, mi piace dire che l'interesse della squadra deve prevalere sul singolo e quindi da questo punto di vista mi innamoro dello spirito di squadra, mai delle qualità di un singolo. Torniamo un attimo anche ad un argomento che purtroppo, perché quando comincia il campionato tutti vorrebbero che le squadre fossero già definite, però tant'è, si chiama calcio mercato e ancora per una settimana rimarrà al centro dell'attenzione di chi ci segue e non solo, al centro anche del vostro lavoro direttore. Che tipo di mercato condurrà il Catania nell'ultima settimana e quante operazioni condurrà, soprattutto in uscita ci è sembrato di capire? È un calcio mercato lunghissimo, questa prima fase della campagna trasferimenti che si chiude finalmente direi fra qualche giorno, il 31 di agosto, perché è indubbio che qualche giocatore viene disturbato nella sua concentrazione, nel suo modo di essere e di applicarsi sul terreno di gioco magari da tante voci che spesso sono fondate sul nulla. Il nostro mercato, io ho avuto modo di soffermarmi più volte da questo punto di vista, in entrata è pressoché concluso, altrettanto per quanto riguarda le uscite fra virgolette eccellenti, dobbiamo andare a sfoltire la rosa in modo tale da mantenere un organico intorno alle 24-25 unità, che io reputo idoneo, non troppo allargato, non troppo ristretto, idoneo a un campionato di Serie A, quindi l'obiettivo principale è quello di cercare di trovare collocazione a quei giocatori che finora hanno avuto meno spazio e ne avranno ancora meno in futuro e quindi nell'interesse nostro come società e primario dei giocatori stessi, trovargli una sistemazione, una collocazione che gli permetta di maturare nel caso siano molto giovani o comunque di trovare una realizzazione e un'applicazione sul terreno di gioco magari maggiore di quella che possono avere a Catania. La filosofia operativa del nuovo corso della Catania prevede anche la centralità del tifoso e quindi finiamo con il parlare di campagna abbonamenti. Fin quando durerà? Io solitamente faccio sì che la campagna abbonamenti possa rimanere aperta fino al giorno precedente della seconda gara casalinga e quindi da questo punto di vista adesso ci parleremo con tutti i nostri collaboratori ma credo che il venerdì prima della seconda gara interna potrebbe essere il momento nel quale si chiude la campagna abbonamenti. Mi auguro di tutto cuore, stante quello che è stato l'operato della società, lo sforzo sin dall'inizio della campagna abbonamenti, parlavo di quella mano tesa nell'andare incontro alla gente, alla nostra gente rossa-azzurra e poi coerentemente quello che abbiamo fatto all'interno di questa campagna trasferimenti merita un'adesione e credo anche una partecipazione da parte del nostro pubblico, non solo sotto l'aspetto qualitativo perché da questo punto di vista so quant'è l'amore e la passione della gente nei confronti dei nostri ragazzi, del nostro allenatore, della nostra società e quindi li ringrazio tutti quelli che hanno già sottoscritto la tessera abbonamento ma mi auguro che siano ancora molti altri per arrivare a quell'obiettivo di superamento della passata stagione che credo oggi noi tutti meritiamo che la gente ci rimanga vicino e ci supporti e ci sostenga nel nostro cammino che sappiamo per definizione sarà lungo, faticoso, irto di ostacoli ma con la gente rossa-azzurra vicina è sicuramente più agile, più semplice. Adesso ci avviciniamo alla lavagna Fogli perché dobbiamo scoprire quello che è il messaggio del Catania per la nuova stagione, il messaggio della dirigenza ai tifosi però intanto riepiloghiamo alcune curiosità statistiche, se oggi dovessero scendere in campo Andujar e Morimoto che tra l'altro è un giocatore che ha già realizzato 5 gol in carriera alla Roma, se dovessero scendere in campo per entrambi sarebbe la centesima presenza in Serie A e anche Marco Biagianti, il capitano qualora dovesse essere inserito nella formazione iniziale da Mr. Maran, festeggerebbe Cifra Tonna, 120 presenze con la maglia del Catania in Serie A, ricordiamo che è al quinto posto attualmente nella graduatoria dei pluri presenti rossa-azzurri in accia. Avviciniamo direttore alla lavagna proprio per scoprire quello che vuole essere il nostro messaggio, prego. E' una partita oggi al di là dei valori da cuore rosso-azzurro, ma più che una partita deve essere una stagione sportiva da cuore rosso-azzurro e c'è quel canto che ogni tanto gli ultra, dalla curva i nostri sostenitori lanciano verso il terreno di gioco che dice noi con la voce e voi con il cuore. Ecco, io credo che il cuore ce lo dobbiamo mettere tutti, sugli spalti, in campo, sul terreno di gioco, in ogni cosa che facciamo e che quest'anno sia veramente una stagione con i nostri colori e con questa grande e straordinaria emozione che è rappresentata da questa dicitura. E se Roma dovesse fare un po' la stupida stasera su Via non ci dispiacerebbe proprio del tutto. Da Angela Scaltriti e Sergio Gasparin, un saluto a tutti voi. A presto. Grazie. 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 Grazie.